È stato per noi davvero un anno molto importante, un anno in cui la Fondazione Italia Camp è cresciuta e si è consolidata. Il 2015 è stato un anno che ha sancito un processo di forte crescita della nostra portazione. All'Agenzia del Demanio abbiamo firmato un importante accordo di collaborazione. Per noi questa è un'opportunità importante per provare a inventare una relazione diversa tra pubblico e privato nella progettazione di polisi di sviluppo urbano. Buongiorno a tutti, grazie per aver venuto. Sono Marco Martellucci, rappresento l'Italia Camp Foundation. Meet in Italy for Life Science, grande evento internazionale dedicato alla valorizzazione della migliore ricerca. È stata una nuova occasione per estendere il nostro investor network a livello internazionale. L'altro filone di attività di Italia Camp è l'Open Innovation. Facciamo emergere la migliore ricerca, stabiliamo connessioni con le aziende che possono essere interessate ai migliori prodotti di questa ricerca. Cerchiamo di far parlare nel Paese attori che fanno fatica a stabilire delle connessioni virtuose. Per noi, Lewis, il tema dell'emozione sociale e della sostenibilità è uno dei gravi del nostro sviluppo. Quindi questo per noi è un'opportunità molto importante. Attraverso l'attività di valorizzazione della ricerca, enti di ricerca, IRCS, università possono fare davvero la differenza sia in termini di emersione e di innovazione, ma anche in termini di valorizzazione e sfruttamento poi economico per le università dei migliori brevetti che hanno realizzato. Grazie per la visione!